Juan Musso, una vittoria bellissima che dà molto più valore alla stagione e anche alla bontà del vostro lavoro, soprattutto nell'ultima parte. Sì, sì, non abbiamo molato, è una partita difficile, loro fanno un gioco che ti fa fatica, tanti cross e tanti giocatori bravi, quindi sapevamo che era difficile e l'abbiamo chiuso molto bene. Al volo ti chiedo un flash, che stagione è stata per te? Perché è stato grandissimo il protagonista, ci hai abituato a grandi prudezze. Sì, grazie a Dio ho fatto una prima temporada molto positiva, tenendo in conto l'adattazione e tutte le difficoltà che abbiamo avuto, ma la squadra mi ha aiutato tanto, mi ho sentito così, veramente. Perché è una squadra che, con tutte le difficoltà e i risultati negativi, si è fatto valere.